l'indomani fu una giornata migliore ma ben holiday non ebbe mai la possibilità di saperlo mentre dormiva continua a fare sogni che erano per metà veri e per metà fantastici sognò di ritrovare anni ancora viva ma il piacere di ritrovarla l'amore che provava per lei erano fuscati dalla convinzione che la moglie non potesse rimanere a lungo e che lui fosse di nuovo destinato a perderla sognò miles che cinico e spaccone come sempre camminava con ben in una chicago piena di bonnie blu e gli diceva ogni istante che avevo avvertito sognò di fare l'avvocato difensore in un'aula di giustizia dove i giurati erano cobolli che si esprimevano in un linguaggio di soli simili e i giudici erano dei cani con degli occhiali in tocco e toga sognò grattacieli e parcheggi visti dall'alto e di essere portato in volo da un drago nero come la notte sognò cavalieri e diavoli facce che comparivano nella nebbia castelli lucidi come specchi su cui si rifletteva la bagliante luce del sole sognò e il mondo scivolò via da lui quando infine si svegliò era mattino era nella reale camera da letto o una grande stanza con arazzi e con tende di seta con mobili in legno di mogano e sculture marmore raffiguranti animali araldici il letto era un grande sarcofago di quercia e ferro con un sacchino sorretto da colonne che dava l'impressione di poter servire anche come barca se mai fosse venuta un'inondazione ben capì che era mattino grazie all'inclinazione dai raggi di luce che penetravano dalle alte finestre ma la luce era grigia e come se la nebbia all'esterno del castello filtrasse ogni colore nella stanza di ben e in quella di accenti regnava il silenzio il castello pareva un guscio di pietra eppure all'interno regnava un gradevole tepore sterling silver aveva l'aspetto di un vecchio rudere ed era privo della spartana eleganza architettonica dei grattacieli di chicago tutti vetri e acciaio cromato ma ad abitarvi dava una forte impressione di trovarsi finalmente a casa propria a toccarlo dava una sensazione di calore gliel'avevano data sia i pavimenti su cui ben aveva camminato sia le pareti che aveva sfiorato con le spalle il calore era nell'aria stessa nonostante la nebbia e la luce grigia scorreva all'interno del castello come se fosse il suo sangue vitale sterling silver era proprio come aveva detto questor una creatura viva nel camminare all'interno del castello ben si sentiva perfettamente a suo agio si sentiva comodo e al sicuro proprio come ci si deve sentire quando ci si sveglia nella propria casa si stirò e diede un'occhiata alla poltroncina dove aveva posato la sacca da viaggio solo allora scorse questor che seduto su un seggiolone dall'alto schienale lo stava fissando buongiorno ben holiday lo saluto il mago buongiorno rispose ben tutta la sua allegria svanì in un istante nel ricordare le sgradevoli rivelazioni che il mago gli aveva fatto il giorno precedente che era un re senza corte senza esercito e senza tesoro ha riposato bene spero chiese questor benissimo grazie ottimo la attende una giornata molto intensa sì certo alto signore questor era raggiante oggi è il giorno dell'incoronazione lei sarà incoronato re di landover ben batte le palpebre oggi le batte di nuovo cominciava a sentire uno strano nodo allo stomaco un momento questor che cosa intende dicendo che oggi è l'incoronazione mi pare che appena ieri mi abbia detto che l'incoronazione avrebbe avuto luogo tra tre giorni perché vi occorreva del tempo per informare tutti gli interessati e l'ambaradà beh sì sì l'ho detto alto signore è vero il mago si mise a fare grandi smorfe di imbarazzo come un bambino sorpreso compiere una marachella purtroppo però non era ieri quando l'ho detto non era ieri sì perché oggi non è l'indomani ben arrossì per la collera si rizzò a sedere sul letto ma che diavolo mi sta raccontando e questor sorrise alto signore lei ha dormito per una settimana intera ben lo fissò in silenzio il mago a sua volta fissò lui c'era un tale silenzio nella stanza che ben udiva distintamente il suo proprio respiro ho dormito per una settimana impossibile questor intrecciò le dita delle mani ricorda il vino che ha bevuto quello che gli ho procurato io ben a noi beh a quel vino ho aggiunto un briciolo di ricostituente sonnifero perché lei avesse una notte di buon sonno allargò le mani l'ho fatto con la magia solo un'inflessione della voce un gesto fece vedere a ben il gesto purtroppo però il gesto è stato un po troppo lento il briciolo è diventato un grosso cucchiaio e lei è rimasto addormentato per una settimana ah un piccolo errore di magia eh ben era rosso di collera questor distolse lo sguardo temo proprio di sì beh io temo proprio di no invece perché razza di sciocco mi hai preso lei l'ha fatto apposta vero mi ha fatto dormire per tenermi bloccato qui vero ben tremava di collera crede che mi sia dimenticato la clausola della rinuncia entro dieci giorni prevista dal mio contratto mi erano concessi dieci giorni per ritornare al mio mondo e per avere indietro i miei soldi tranne la percentuale per coprire le spese non mi venga a dire che non lo sapeva adesso e adesso otto di quei giorni se ne sono andati proprio una bella combinazione non le pare un momento prego un momento questo era rigido di indignazione se avessi davvero voluto tenerla su landover al tuo signore non mi sarei preoccupato di avvertire della pozione sonnifera dei giorni trascorsi nel sonno giusto semplicemente l'avrei lasciata credere che oggi era il secondo giorno del suo arrivo a landover e tutti i dieci giorni sarebbero passati senza che lei se ne accorgesse neanche ben lo fissò per un istante e poi tornò raddrizzarsi sulla schiena beh forse ha ragione scosse la testa incredulo suppongo di dovere le mie scuse ma onestamente sono troppo irritato per scusarmi maledizione ho perso un'intera settimana per causa sua e mentre dormivo lei ha continuato i preparativi dell'incoronazione ha spedito gli inviti e tutto il resto e per fortuna mi ha svegliato in tempo altrimenti avreste dovuto incoronarmi su questo letto mentre dormivo oh ero certo di svegliarla in tempo fin da quando mi son reso conto del problemino si affrettò a rassicurarlo questor intende dire che sperava di riuscire a svegliarla disse a bernati che entrava in quel momento e reggeva tra le zampe un vassoio la colazione alto signore raggiunse il letto e posò il vassoio sul tavolino grazie mormorò ben senza perdere di visto a questor ero certo di svegliarla ripette il mago caparbiamente giornata proprio data un'incoronazione disse a bernati guardò ben da sopra il bordo degli occhiali il suo abito da cerimonia è pronto l'abbiamo modificato e adesso le sta a pennello fece una pausa ho avuto tutto il tempo di prenderle le misure mentre dormiva alto signore oh non ne dubito ben addentò rabbiosamente un pezzo di pane un'intera settimana suppongo a bernati alzò le spalle non proprio anche gli altri hanno bevuto quel vino alto signore è stato un comprensibile errore insistette questor aggrottando le sopracciglia di questi errori disse a bernati sprezzante non ti pare di farne un po troppi allora secondo te non dovrei più aiutarvi sarebbe la soluzione migliore ben sollevò le mani e di sentono implorante basta smettetela per favore guardò prima l'uno e poi l'altro non ho voglia di sentire discussioni come avvocato ne ho sentite fin troppe voglio delle spiegazioni invece ieri sera ho detto che volevo sapere tutti i retrosceni della vendita di questo regno beh no ieri sera ma l'ultima volta che abbiamo parlato perciò adesso potrebbe essere la volta buona questo il mago si alzò rivolse un occhiataccia da bernati e poi tornò a guardare ben le darò le spiegazioni che ha chiesto holiday ma gliela darò mentre saremo in viaggio per il cuore l'incoronazione deve aver luogo a mezzogiorno e per fare in tempo dobbiamo partire subito a bernati si avviò verso la porta alto signore tornerò subito con i suoi abiti intanto cerchi di fare un po di colazione la magia del castello continua a fare cilecca e non mi stupirei se presto fossimo costretti a ricorrere all'esterno per procurarci le vettovaglie si allontanò questo lo squadrò di nuovo con irritazione poi si voltò verso ben voglio aggiungere solo una cosa alto signore con ancora due giorni a disposizione ha tutto il tempo di servirsi del medaglione per far ritorno al suo mondo se così desidera si fermò nella stanza ancora per qualche momento poi uscì come pochi istanti prima era uscito bernati ben lo osservò mentre si allontanava un'intera settimana mormorò tra sé posò sulla sede al vassoio della colazione e scese dal letto in meno di un'ora erano in viaggio ben questor abbernati e i due cobolli salirono sulla barca per allontanarsi da sterling silver e dalla sua isoletta brulla e scivolarono in silenzio sulle onde del lago scuro fino a raggiungere il prato superato quest'ultimo si trovarono nella nebbia della foresta meglio cominciare dall'inizio suppongo esordì questor lui e ben camminavano davanti agli altri spalla a spalla il mago procedeva con la sua lunga falcata le spalle curve e la testa bassa tutti i problemi del trono sono cominciati alla morte del vecchio re più di vent'anni fa a quell'epoca le cose erano molto diverse il vecchio re era rispettato da tutte le genti di landover la sua famiglia regnava da cinque generazioni ed aveva sempre regnato in modo esemplare nessuno osava mettere in dubbio la sovranità del vecchio re neppure la strega del crepuscolo neppure il marchio di ferro a quell'epoca c'era un esercito una corte e leggi che erano osservate da tutti la stanza del tesoro era piena e il trono era protetto dalla magia sterling silver non era colpito dalla ruggine era lucido e scintillante come se fosse stato appena costruito e l'isola su cui sorge era la più bella della zona della valle c'erano fiori e c'era la luce del sole e non si vedevano né nubi né nebbia ben osservò il proprio abbigliamento indossava tunica e calzoni rossi di seta e stivali alti fino al ginocchio con fibbie d'argento a bernati gli portava l'abito da cerimonia la corona e le collane dei vari ordini cavallereschi questo mi spiace diglielo ma la sua narrazione comincia a sembrarmi una brutta fottuta favola e in seguito peggiorirà ancora alto signore il vecchio re morì e lasciò un solo figlio ancora giovane come re del trono il tutore del principe era un mago di grandi poteri ma dubbia onestà il mago era come un padre per il principe più di quanto non lo fosse il vecchio re perché si era occupato di lui si era occupato del ragazzo a partire dal giorno della morte della madre e durante le frequenti anzi frequentissime assenze dalla corte del vecchio re il principe era un giovane debole che non amava né l'handover né le responsabilità che gli toccavano per nascita e il mago riuscì ad aver buon gioco sfruttando le sue debolezze già da tempo il mago cercava il modo di lasciare quella che giudicava una vita piuttosto limitata sull'handover a quell'epoca era il mago di corte la posizione che adesso è mia e si riteneva destinato a cose assai superiori ma il mago di corte è legato al trono e alla terra da un giuramento magico non può lasciare il suo posto finché non è lo stesso trono a lasciarlo libero perciò sfruttò la sua abilità con le parole per convincere il ragazzo a lasciare l'handover insieme a lui si interruppe e girò verso ben la faccia da gufo quel mago è il mio fratellastro alto signore lei lo ha conosciuto sotto il nome di mix ben annui lentamente comincia a vedere un po di luce come è solo un modo di dire e la smetto di ripetere sempre come in quel tono lo diceva mia nonna quando cominciava a perdere la ragione lo ripeteva tutte le volte che le parlavo rischiavo di impazzire mi scusi allora il guaio per chi lascia l'handover è che non può portare niente con sé la magia non lo permette la cosa non andava certo a genio al mio fratellastro e al principe perciò venne loro l'idea di vendere il trono una persona degli altri mondi se qualcuno degli altri mondi avesse comprato l'handover il mio fratellastro e il principe avrebbero potuto spendere il denaro laggiù aggirando la legge di l'handover che impediva loro di portar via dei beni in quel modo sarebbero vissuti negli agi ovunque fossero andati perché hanno scelto il mio mondo chiese ben hanno fatto delle ricerche questo sorrise gli abitanti del suo mondo si sarebbero lasciati facilmente attirati dal nostro modo di vivere l'handover era il mondo di favola che sognavano ben a noi a parte il piccolo particolare che non lo è affatto già sì questo si schiarì la gola passò del tempo il mio fratellastro convinse il giovane principe a seguirlo questi divenne adulto tutte e due spezzarono i legami che li univano con l'handover fin dall'inizio il principe non aveva mai avuto interesse per il trono non avrebbe esitato neanche un po ad abbandonarlo indipendentemente dalle condizioni a lui offerte se gli avessero però garantito un buon trattamento il mio fratellastro si assunse le responsabilità di mantenerlo nel lusso occorsero un po di studio e molte manovre e mentre succedevano queste cose il regno andava a pezzi la magia funzionava con la forza di volontà e di questa ce n'era ben poca il tesoro si esaurì l'esercito si sciolse le leggi non vennero più rispettate la popolazione perse il senso di unità e si chiusero dentro a mura il commercio tra i vari gruppi cessò sterling silver era senza padrone e senza corte e fu colpito dalla ruggine anche la terra fu colpita dalla malattia appassì e divenne sterile il mio fratellastro e il principe si trovarono a dover vendere come direste voi alto signore o sì il gatto nel sacco a qualche ignaro acquirente ben alzò lo sguardo verso le cime degli alberi e strinse i pugni lei ha un certo modo di dire le cose questor che sì ma alto signore non è detto che la situazione debba rimanere sempre la stessa è quanto ho cercato di spiegarle un re forte saggio può riportare l'handover nella condizione di un tempo le leggi si possono di nuovo rispettare soprattutto se le fa rispettare una persona come lei che conosce la natura della legge il tesoro può essere di nuovo rifornito l'esercito si può di nuovo radunare e la ruggine può essere sconfitta per questo mi sono messo sulle spalle il manto del mago di corte quando il mio fratellastro l'ha gettato le ortiche per questo ho aiutato il mio fratellastro a trovare un acquirente gli ho perfino scritto le parole dell'avviso di vendita è stato lei a scrivere quel mucchio di bugie per la pagina del catalogo chiese ben stupito l'ho scritto per attirare il tipo giusto di persona un uomo dotato di immaginazione e di coraggio puntò in direzione di ben un dito suto e non era un mucchio di bugie abbassò il dito e fece una smorfia ho fatto quel che era necessario alto signore l'handover deve ritornare come una volta dopo la scomparsa del vecchio re lo si è lasciato andare in rovina e la perdita della magia lo può distruggere completamente abbiamo già ascoltato varie volte questo discorso questor brontolò a bernati dietro di loro per favore lascia perdere il mago lo guardò con irritazione dico solo quel che devo dire se non ti va tappati le orecchie questor disse ben riportando la conversazione al suo punto di partenza non capisco la sua parte in tutto questo se lei ha tanto cuore gli interessi di landover perché ha lasciato che il suo fratellastro il principe gettassero a terra il regno dove era lei negli anni dopo la morte del vecchio re dove era mentre il trono di landover era vacante questor sollevò le braccia e implorò la prego alto signore una domanda alla volta per carità si grattò nervosamente la barba deve capire che non ero il mago di corta a quell'epoca lo era il mio fratellastro e anche se non amo confessarlo lui è un mago molto più bravo di me io sono solo un povero imitatore e lo sono sempre stato dove ho messo penna e calamaio esclamò a bernati devo prendere immediatamente nota di queste parole comunque da quando sono mago di corte miglioro giorno dopo giorno proseguì questor ignorando l'altro finché il mio fratellastro era il mago io non avevo alcuna posizione al castello ero un apprendista troppo vecchio per restare semplicemente tale ma senza alcuna possibilità di trovare qualche altra occupazione nel regno ho viaggiato a lungo cercato di imparare la magia dalle fate per avere un lavoro con cui occupare il tempo poi qualche anno dopo la morte del vecchio re il mio fratellastro mi chiamò di nuovo a casa perché lo io tassi nell'amministrazione della corte mi parlò della sua intenzione di lasciare il regno di non fare più ritorno mi disse che il principe aveva deciso di vendere il trono e di andare via con lui mi assegnò il grado di mago di corte e di consigliere del nuovo re si interruppe e si voltò verso ben capisce pensava che non gli avrei dato fastidi perché ero sempre stato un mago di discarso valore in tutte le mie attività non avevo mai avuto successo pensava che sarei stato talmente contento della posizione di mago di corte da obbedirgli in tutto e per tutto e io glielo lasciai credere alto signore finsi di collaborare perché era l'unico modo per salvare il regno se si volevano mettere le cose a posto era necessario avere un altro re e io ero intenzionato a trovarlo ho perfino convinto il mio fratellastro a lasciarmi scrivere il testo dell'avviso destinato a procurarci il nuovo re di nandover ed eccomi qua finì per lui ben eccola qua confermò questor con un milione di dollari in meno e con un regno in più ma il mio denaro è sparito vero il contratto che ho firmato era una truffa fin dall'inizio mix il principe se la sono squagliata con i soldi e io sono bloccato qui per il resto della vita vero questor questor lo guardò per qualche istante e infine scosse la testa no alto signore lei non è bloccato qui se non vuole rimanerci il contratto era valido la clausola della riserva dei dieci giorni era valida e i soldi sono ancora laggiù che l'aspettano se ritorna entro dieci giorni questa volta fu ben a rimanerci che mi prenda un colpo mormorò infine osservò questor ancora per un momento non c'era bisogno che mi desse queste spiegazioni lo sa anche lei poteva lasciarmi credere che i soldi fossero spariti e che io ero costretto a rimanere qui il mago fece la faccia offesa no non sarei capace di fare una cosa simile alto signore o sarebbe perfettamente capace di farlo intervene a bernati e lo farebbe se fosse sicuro di passare la liscia si accovacciò a terra e cominciò a grattarsi il collo con una delle zampe posteriori pensate che ci siano delle zecche in questi boschi chiese io odio le zecche proseguirono in silenzio ben ripensò tutto quello che gli aveva detto questor il vecchio mix e il figlio del defunto re si erano messi d'accordo per fare il colpaccio vendere il trono e sistemarsi con i soldi in un nuovo mondo la cosa aveva senso si disse ma aveva l'impressione che gli mancasse ancora un elemento dell'intera situazione purtroppo non riusciva a capire di qual elemento si trattasse sapeva che qualcosa non quadrava ma non riusciva a definirlo con esattezza per risolvere il problema cercò di far ricorso alla sua esperienza di avvocato ma l'elemento mancante continuava a sfuggirgli dopo qualche tempo rinunciò alla ricerca presto tardi si disse la cosa sarebbe saltata fuori da sola inoltre in quel momento aveva un problema ancora più importante 8 dei 10 giorni a lui concessi del contratto erano già trascorsi gli rimanevano soltanto quel giorno e il giorno successivo per decidere se ritirarsi dall'acquisto e far ritorno a casa la cosa era possibile gli aveva assicurato questor e lui sentiva di potersi fidare del mago il problema dunque non riguardava il potere bensì il volere lui voleva tornare nessun aspetto di land over corrispondeva a quanto promesso dal catalogo tranne che naturalmente il senso lato c'erano i draghi e le castellane e i castelli e c'era la magia e lui era un sovrano di tutto il paese o almeno lo sarebbe diventato tra poco ma la fantasia non corrispondeva alle sue attese anzi ne era ben lontana tutto sommato la cifra spesa gli pareva un po eccessiva per quel che gli aveva ottenuto eppure e qui l'accusa lasciò il posto la difesa a land over aveva trovato qualcosa di indefinibile che lo aveva stregato probabilmente si trattava della sfida che quel mondo gli poneva gli costava fatica ammetterlo ma doveva farlo se voleva essere del tutto onesto con se stesso non gli era mai piaciuto rinunciare a una cosa che aveva iniziato non gli piaceva perdere gli dava fastidio ammettere di avere commesso un errore nel recarsi laggiù nell'aver pagato un milione di dollari per una fantasia che era davvero una fantasia anche se non precisamente quella da lui cercata ben era un avvocato con tutti gli istinti e le caparbietà della sua professione e non gli piaceva tirarsi indietro dalla lotta qualunque essa fosse e a land over avrebbe sicuramente dovuto lottare perché la sovranità era ridotta mal partito e sarebbe occorsa molta fatica per riportarla in auge temeva forse di non farcela o temeva che le sue capacità fossero inferiori a quelle dei sudditi su cui intendeva regnare miles avrebbe detto che non ne valeva la pena miles avrebbe allargato le braccia e avrebbe fatto ritorno alla civiltà al tribunale all'ascensore e al taxi e i membri del suo ufficio si sarebbero comportati come miles ma non enni sua moglie gli avrebbe consigliato di accettare la sfida e sarebbe rimasta al suo fianco per aiutarlo a vincere ma enni era morta serò le macelle e aggrottò la fronte quando si arrivava al cuore del problema anche lui sarebbe stato peggio che morto se avesse rinunciato o fosse tornato indietro ecco perché aveva accettato il rischio fin dall'inizio e si era recato su land over per ritornare a vivere ed era tuttora convinto di poterlo fare era convinto che land over potesse essere la sua casa inoltre il denaro era solo denaro ma un milione di dollari gli pareva di udire l'esclamazione di miles incapace di capire gli pareva di vederli alzare le braccia irritato da un simile modo di ragionare e con una certa sorpresa si accorsi che l'idea lo faceva sorridere era mezzogiorno esatto quando la nebbia e gli alberi si aprirono quasi senza preavviso e il piccolo gruppo entrò in una radura illuminata dal sole coperta di erba di color verde oro e rossa tutti intorno al bordo della radura crescevano bonni blu ben distanziati e perfetti solo quelli più vicini alla foresta erano colpiti da macchie che ben aveva osservato il giorno del suo arrivo in centro la radura si scorgevano un palco e un trono costituiti di grandi travi di quercia agli angoli della piattaforma del palco erano fissati candelabri di argento lucido con candele di cera alte e giudicare dal lucignolo mai accese dietro la piattaforma sventolavano bandiere in segni multicolori e sul prato erano posti molti cuscini con un ampio gesto del braccio questo le indicò la radura illuminata dal sole questo è il cuore di landover alto signore disse con commozione lei sarà incoronato nostro re qui ben osservò il legno lucido e l'argento risplendente del trono e del palco le bandiere e le candele l'erba ben rasata e i bonni blu non c'è traccia di ruggine questor commentò tutto sembra come nuovo la ruggine non ancora raggiunto il cuore di landover alto signore qui la magia è ancora forte venga con me attraversarono in silenzio la radura passarono tra le file di cuscini di velluto e raggiunsero il palco che li attendeva l'aria tiepida del mezzogiorno era piena di fragranti profumi e i colori dell'erba e degli alberi parevano brillare e cangiare come se fossero liquidi al suo ingresso nella radura ben provò un senso di pace e di sacralità che gli fece tornare in mente la chiesa che frequentava la domenica quando era ancora bambino strano che ritornasse la mente quei giorni lontani il primo a stupirsene fu lui giunti al palco si fermarono ben si guardò attorno il cuore di landover era quasi deserto alcuni contadini e mandriani con moglie e figli a rimorchio si erano fermati con esitazione e bordi della radura e bisbigliavano tra loro e guardavano ben poco convinti sei cacciatori vestiti come gli abitanti dei boschi si erano raccolti in un piccolo capannello all'ombra della foresta dove non batteva il sole un mendicante che indossava una tunica cenciosa e un paio di sudici calzari sedeva in terra a gambe incrociate a parte loro non c'erano altri ben agrotto la fronte i pochi presenti avevano un'aria desolata chi sono chiese piano a questor il mago diede un'occhiata a quel gruppo di persone male narnese e si affrittò a distorgere lo sguardo spettatori spettatori dell'incolonazione alto signore beh dove sono tutti gli altri forse arriveranno in ritardo per sentirsi più snob suggeria bernati dietro di lui i koboldi si bilavano piano e mostravano i denti ben posò la mano sulla spalla di questor lo costrinse a voltarsi verso di lui cosa succede dov'è tutta la gente il mago si grattò il mento nervoso è possibile che coloro che intendano intervenire siano semplicemente in ritardo magari perché sono stati trattenuti da qualche imprevisto aspetti un attimo lo interruppe ben ripeta la frase coloro che intendono intervenire ha detto questo significa che alcuni non intendono intervenire per caso o beh era solo un modo di parlare alto signore certo verranno tutti coloro che hanno la possibilità ben incrociò le braccia sul petto e guardò attentamente il mago e io sono babbo natale ascolti questor ormai sono abbastanza grande per capire l'esistenza di una volpe dalla presenza della tana che cosa succede qui il mago spostò il peso del corpo prima su un piede e poi sull'altro era a disagio oh beh la verità è che arriveranno in pochi signore e quanti sarebbero i pochi forse non più di due a bernati si avvicinò intende dire noi quattro altro signore e quei pochi che sono raggiù in mezzo agli alberi solo voi quattro ben fisso questor stentava a credergli voi quattro e nessun altro c'è l'incoronazione del primo re di landover dopo vent'anni e non viene nessuno ad assistere lei non è esattamente il primo alto signore disse piano questor oltre a voi quattro lei non è il primo ripete il mago un lungo silenzio come ha detto chiese ben ce ne sono già stati altri alto signore altri re di landover dopo la morte del vecchio sovrano lei è semplicemente l'ultimo della serie mi spiace di doverlo dire così di punto in bianco avrei preferito comunicarglielo in seguito una volta terminata la cerimonia quanti altri chiese ben rosso di collera dell'incoronazione fatto ritorno a che cosa ha detto i re maledizione quanti ce ne sono stati questor fece una smorfia varie decine mi pare a dir la verità ho perso il conto lontano dietro la nebbia e gli alberi della foresta e che giò uno schianto di tuono a bernati rizzò le orecchie alcune decine ben non aveva prestato attenzione al tuono le braccia gli erano cadute lunghi i fianchi aveva serrato le macelle ora capisco perché ha perso il conto ora capisco perché nessuno si prende il disturbo di venire le prime volte naturalmente venivano tutti proseguì il mago in un tono di voce calmo e irritante senza abbassare lo sguardo venivano perché avevano fiducia in seguito quando hanno perso la fiducia hanno continuato a venire perché erano curiosi ma alla fine hanno perso anche la curiosità abbiamo avuto troppi re alto signore che non erano veri sovrani indicò il gruppetto che si era raccolto ai margini della foresta i pochi che vengono ancora disse lo fanno per disperazione il tuono eccheggiò di nuovo adesso era più forte e più vicino un profondo lungo brontolio che si ripercuoteva nella foresta e che faceva tremare la terra i coboldi si vilarono e abbassarono le orecchie ben si guardò attorno con precauzione a bernati cominciò a ringhiare questor prese per il braccio ben salga sul palco presto alto signore presto salga ben non capì il motivo di quella improvvisa fretta aggrotto alla fronte questor gridò salga e cominciò a tirarlo stanno arrivando i demoni a questo punto ben non ebbe bisogno di altri incentivi i coboldi si erano già avviati in corsa verso il palco e lui si affrettò a seguirli il tuono scoppiò ancora più vicino fece tremare la terra e gli alberi a quanto pare alto signore avrà gli spettatori dalle richiesti disse a bernati mentre saliva quattro zampe gli scalini nel palco e per poco non perdeva le vesti di cerimonia e la collana d'oro di ben questi salì dietro di lui e si guardò attorno con apprensione il cuore era deserto a parte i suoi quattro accompagnatori i contadini e mandriani e le loro famiglie cacciatori e i mendicanti erano spariti nell'ombra della foresta la nebbia e l'oscurità degli alberi parvero prepararsi ad assalire la piccola radura rischiarata dal sole aiuta l'altro signore a indossare la veste e le collane ordinò questora da bernati salendo di corsa agli scalini svelto a bernati tornò a rizzarsi sulle zampe posteriori e drappeggiò sulle spalle di ben la veste e gli mise al collo le pesanti catene d'oro un momento questor protestò ben fissando con preoccupazione la zona della foresta da cui proveniva il rumore comincia ad avere qualche dubbio forse è meglio sospendere l'incolonazione è troppo tardi altro signore lei deve farlo all'improvviso sulla faccia da gufo di questor era comparsa un'aria estremamente decisa si fidi di me sarà al sicuro ben pensò che aveva buoni motivi per dubitare della promessa di questor ma a bernati gli stava già lacciando i fermagli delle catene lo scrivano era straordinariamente abile nei movimenti per un cane e ben nonostante tutto si sorprese a osservarlo con un sobbalzo si accorse che a bernati al posto delle zampe aveva delle mani corte e tozze non è riuscito a fare bene neppure quello mormorò lo scrivano nel vedere la faccia sorpresa di ben speriamo che abbia maggior fortuna con lei in fondo alla radura le ombre e la nebbia presero a turbinare come un vortice d'inchiostro e si devò improvviso un fortissimo vento il tuono causato dall'avvicinarsi ai demoni divenne un secco scalpitio che scosse la foresta ben si voltò e il vento minacciò di strappargli di dosso gli abiti da cerimonia a bernati fece un passo indietro con qualche basso ringhio e i coboldi soffiarono come vipere e mostrarono i denti alla macchia d'oscurità in quell'istante i demoni scaturirono dal vortice di nebbia e di buio materializzandosi come se nell'aria si fosse spalancato un foro erano una legione di sagome sottili rivestite di corazze scure come la notte dalle armi e dalle piastre di cui erano carichi si levava un clangore metallico e gli zoccoli delle loro mostruose cavaltature lunghe e contorte come serpenti battevano con un rumore di tuono sulla roccia e sulla terra l'armata dei demoni rallentò per arrestarsi infine nella radura in mezzo alla nebbia si scorgeva il luccichio delle zampe bianche e i bagliori degli occhi rossi artigli e pungiglioni spuntavano dalla massa come se l'armata dei demoni fosse un'unica creatura composita i demoni si schierarono di fronte al palco erano centinaia e occupavano tutta l'area tra la foresta e i cuscini quando il tuono morì l'aria fu piena del soffio del loro respiro il vento sferzò un'ultima volta la radura e poi cadde in tutta la radura si udivano soltanto gli ansiti dei demoni questor chiamò ben a bassa voce era impietrito dalla paura si alzi alto signore bisbigliò il mago l'orda dei demoni fremette tutti insieme brandirono le armi e lanciarono un grido folle a bernati fece un passo indietro e riprese a ringhiare i coboldi accovacciati ai fianchi di ben fischiarono e soffiarono come impazziti questor fece di nuovo bene in tono ancora più pressante poi apparve il marchio di ferro i demoni che stavano in centro allo schieramento si fecero bruscamente di lato e il loro re spuntò dalla nebbia era in sella al suo rettile alato una creatura per metà serpente e per metà lupo un essere che pareva uscito dal peggiore degli incubi il marchio di ferro era completamente rivestito di un'armatura nera opaca e consumata dalle battaglie carica di armi e di spunzioni in testa portava un elmo a forma di teschio con la visiera abbassata ben rimpianse di non trovarsi in un altro posto uno o qualsiasi questor si avvicinò a lui in ginocchio alto signore ordinò in un bisbiglio cosa si in ginocchi lei deve essere incoronato re i demoni sono venuti ad assistere all'incoronazione e non dobbiamo deluderli aggrottava la fronte preoccupato si in ginocchi per il giuramento ben si mise in ginocchio senza perdere di vista i demoni stringa il medaglione ordinò questor ben se lo sfilò da sotto la tunica e lo tenne tra le mani adesso ripeta con me sarò una cosa sola con la terra e suoi abitanti sarò fedele a tutti e non mancherò di parola nessuno rispetterò le leggi del trono e della magia mi dedicherò totalmente al mondo in cui mi trovo e di cui adesso sono il sovrano ripeta queste parole ben scosse la testa questor non so più se le ripeta ben holiday se vuole davvero diventare il re che mi ha promesso di essere il rimprovero era fermo e autorevole quasi come se gli fosse rivolto ad un'altra persona ben fissò questor negli occhi i demoni si agitavano inquieti ben sollevò il medaglione in modo che tutti potessero vederlo chiaramente non staccò lo sguardo dagli occhi di questor sarò una sola cosa con la terra e suoi abitanti sarò fedele a tutti e non mancherò di parola nessuno rispetterò le leggi del trono e della magia mi dedicherò totalmente al mondo in cui mi trovo e di cui adesso sono il sovrano ripete pronunciò le parole con voce chiara e decisa si stupì di essere riuscito a ricordarle con tanta facilità come se le conoscesse da tempo nella radura regnava il più assoluto silenzio ben si lasciò ricadere sul petto medaglione questor gli fece un cenno d'assenso poi alzò le mani e le passò al di sopra della testa di ben senza toccargli i capelli si alzi sua maestà disse piano ben holiday re di landover alto signore sovrano ben si alzò la luce del sole si aprì finalmente un varco in mezzo alla nebbia portata dai demoni e brillò su di lui nella radura continuava a regnare un profondo silenzio lentamente questor appoggiò a terra un ginocchio a bernati si affrettò a imitarlo e così pure due coboldi ma i demoni non si mossero il marchio di ferro rimase in arcione e nessuno dei suoi accoliti si inginocchiò gli mostri ancora una volta il medaglione mormorò questor ben si voltò verso i demoni sollevando nella mano destra il medaglione sotto le dita sentì la sagoma del cavaliere del lago del castello e del sole nascente in mezzo ai neri ranghi dei demoni si levò qualche grido alcune di quelle creature scesero a terra ma il marchio di ferro sollevò il braccio per ordinare a tutti di rimanere in sella di non inginocchiarsi l'elmo a forma di teschio si voltò verso ben con aria di sfida questor la cosa non funziona sussurroba impreoccupato all'improvviso ci fu un movimento nella fila dei demoni a cavalcioni del suo mostruoso destriero alato il marchio di ferro si fece avanti in mezzo alla cortina di nebbia ed ombra i demoni da lui condotti avanzarono dietro il loro capitano ben sentì freddo questor ma nel cuore di landover si levò improvvisamente un bagliore come un raggio di sole riflesso da uno specchio giunse dal confine dell'ombra dalla zona posta tra i demoni e il palco su cui erano saliti ben e i suoi compagni i demoni rallentarono guardandosi attorno con allarme ben e i suoi si voltarono verso il punto da cui era giunta la luce dalla nebbia stavano uscendo un guerriero e un cavallo ben holiday trasalì era il cavaliere che aveva incontrato nel passaggio temporale fra la terra e landover il guerriero raffigurato sul medaglione una statua di ferro ammaccata e coperta di polvere in sella un cavallo sfiatato sollevava la lancia e rimaneva immobile il paladino esclamò questo l'incredulo è ritornato il marchio di ferro si rizzò sulla sella l'elmo a forma di tesco si voltò verso il cavaliere con un gemito alcuni demoni indietreggiarono fino a sparire nella nebbia il cavaliere non si mosse questor che cosa sta succedendo chiese ben ma il mago si limitò a squadrare la testa senza parlare un momento più tardi pronti a scattare come animali da preda i demoni e i cavalieri si fronteggiarono sulla radura del cuore di landover il marchio di ferro sollevò un braccio con il pugno chiuso il teschio si inclinò in misura quasi impercettibile in direzione di ben dando di sprone alla sua cavalcatura il re dei demoni ritornò nell'oscurità e il suo esercito si allontanò con lui il silenzio venne interrotto da gridi e ululati il vento tornò a gemere e si levò nuovamente il tuono degli zoccoli i demoni scomparvero con la stessa rapidità con cui erano apparsi la nebbia e l'oscurità svanirono pochi istanti più tardi e il sole tornò a splendere ben batte gli occhi senza capire quando si voltò di nuovo verso il guerriero a cavallo si accorse che anche lui era scomparso nella radura erano rimasti soltanto ben e i suoi quattro accompagnatori poi qualcosa tornò a muoversi nell'ombra i pochi agricoltori e mandriani venuti con le famiglie i cacciatori e il mendicante uscirono dai loro nascondigli e si raccolsero con esitazione al limite degli alberi avevano un'espressione meravigliata e impaurita non usarono entrare nella radura ma uno alla volta si inginocchiarono ai margini della foresta ben aveva il batticuore la fronte madida di sudore trasse un profondo respiro e si voltò verso questor voglio sapere che diavolo succede e voglio saperlo adesso questor per la prima volta da quando ben lo aveva incontrato pareva veramente senza parole fece per dire qualcosa si interruppe provò di nuovo a parlare scosse la testa no ben guardò gli altri a bernate ansimava come se avesse fatto una corsa i coboldi erano accovacciati a terra con le orecchie basse gli occhi ridotti a una fessura ben prese il mago per il braccio maledizione mi risponda alto signore non saprei non so spiegare contorceva la faccia come se gli avessero chiuso una morsa non avrei mai creduto che ben si affrettò a sollevare le mani per interromperlo per l'amor di dio questor si calmi l'altro a noi trasse un profondo respiro si alto signore e risponda alla mia domanda alto signore io si interruppe di nuovo da dietro questor si affacciò la testa pelosa della bernati è una cosa molto interessante disse pareva essersi ripreso più in fretta del mago questor lo guardò con rabbia avrei dovuto trasformarti in un gatto esclamò questor lo richiamò ben con impazienza il mago si trasse un profondo respiro piegò la testa e pensosamente in alzò le spalle alto signore non so proprio come diglielo gli rivolse un sorriso fiacco quel cavaliere lo stesso che compare sul medaglione dell'hai portato quello che ha affrontato il marchio di ferro non esiste il sorriso gli svanì dalle labbra alto signore abbiamo appena visto uno spettro